Solidarietà al sindaco di Premosello, Elio Fovanna per le pressioni, da parte di esponenti del Comitato Comunità della Bassa Ossola. Comitato che si oppone alla realizzazione dell'impianto di Cuzzago dove si realizzerà biogas dal trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani. A esprimersi è il Consiglio di amministrazione del Consorzio Rifiuti del VCO in un comunicato inviato su mandato dell'Assemblea dei Sindaci. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.